Salve a tutti amici appassionati di Formula 1 e lettori di F1 Grand Prix.it Ci troviamo a commentare insieme la quarta prova del Mondiale che si è corsa sul circuito di Sochi, il Gran Premio di Russia che ha visto la prima vittoria in carriera di Valtteri Bottas ma una Ferrari che è stata grandissima protagonista del fine settimana Ebbene è stato un weekend a due facci, un weekend che Mercedes e Ferrari si sono in pratica spartiti a metà La Ferrari al pronti via già dalle prove libere è sembrata perfettamente a proprio agio su questo circuito anomalo che alterna rettilini e ad un tratto lento Un circuito che sulla carta doveva favorire il grande motore della Mercedes ma una Mercedes invece ha sofferto un po' in trazione e in assetto La Ferrari è stata sorprendente per certi versi, ha interpretato benissimo l'utilizzo delle gomme su un asfalto liscissimo e si è dimostrata velocissima anche sul giro secco Il grandissimo risultato della Ferrari che non va sottovalutato ed anzi va sottolineato è l'essere riuscita a monopolizzare la prima fila è una cosa che mancava da dieci anni, è una cosa quasi da festeggiare Perché? Perché la Ferrari dopo anni bui in qualifica con medie veramente bassissime di polla all'anno 0,6 polla all'anno di media è riuscita a ritornare in polla, addirittura ad andare in prima fila con entrambe le vetture battendo la Mercedes su quello che è il punto forte di Stoccardo ovvero il giro veloce quindi un risultato che non va sottovalutato perché è emblematico della bontà del progetto e del grandissimo potenziale della vettura di Maranello La gara invece l'ha vinta la Mercedes l'ha vinta in partenza con un Bottas sorprendente che ha avuto uno spunto eccezionale, ha beffato entrambi i piloti della Ferrari ha svoltato prima, sul circuito dove non si passa non gli è rimasto che dare il proprio passo alla gara imprimere un ottimo ritmo, bravissimo lui, gli facciamo i complimenti Vettel l'indomito, non si è arreso, l'ha inseguito per tutta la gara ha ritardato il pit stop ha provato, gli si è incollato a un secondo ma è un circuito dove non si passa complice un po' ai doppiati un po' il fatto che su questo circuito non si passa al pilota tedesco, comunque autore di una gara sorprendente e sempre in grande stato di forma non gli è restato che accodarsi accontentarsi della seconda piazza nonostante partiva in pole Raekkon e Nidem anzi il pilota finlandese non chiamiamolo più bollito perché ha dato una grandissima risposta agli scettici ai soliti criticoni ha fatto un grande fine settimana ha sfiorato la pole mancandola di poco per un errore all'ultima curva e poi ha seguito il teammate Vettel conquistando un ottimo podio il primo stagionale un ottimo terzo posto mettendo Fieri in cascina e portando punti utili alla squadra è stato il fine settimana di Bottas un Bottas che si è trovato subito meglio si è subito adattato meglio a questo circuito un circuito che gli piace un po' la sua pista e ha surclassato e questa è l'altra notizia del fine settimana surclassato Hamilton weekend a due facce la Ferrari ha sprecato una grande occasione perché partiva in pole eppure è una Ferrari che può sorridere può sorridere perché ha dimostrato ancora una volta che era la vettura più veloce in pista e chissà se fosse stato un circuito dove si passava come sarebbe finita la gara perché Vettel ne aveva più di Bottas perché la Ferrari è veloce in tutte le condizioni ha serbato e carico ha serbato e scarico è una macchina veramente bilanciata che fa del bilanciamento e della trazione i propri punti di forza bravissimo Bottas che era arrivato a soci scuro in volto ombroso perché ancora reduce dalle scorie del Barenno dove era stato trattato come una vittima sacrificale la classica seconda guida che deve spostarsi al passaggio del capitano del capo squadra rispondeva anche un po' in conferenza stampa in modo timido questo ruolo che sa probabilmente di dover ricoprire ma che il pilota non vuole ricoprire ha dato una grandissima risposta in pista dimostrandosi perfetto tra le curve di soci mentre Hamilton è incappato in uno dei suoi weekend no dove vive quelle crisi agonistiche se non esistenziali dove perde la fiducia nel team nella vettura vede i fantasmi del passato sembra aver rivisto Rosberg un pilota meno quotato che però è capace di prestazioni monstre di prestazioni meravigliose mentre lui è rimasto indietro ha aggrappato alla sua Mercedes che non andava ha lamentato problemi di assetto problemi di temperatura però sin dal venerdì ha guidato malissimo la cosa su cui bisogna porre l'accento è che dei quattro piloti che adesso stanno comandando il mondiale in questa sfida a due Ferrari e Mercedes perché il resto della griglia non esiste aspettando il ritorno della Red Bull che si piazza quinta con Verstappen il resto sono una marea di piazzati in trenino uno dietro l'altro staccati a distanza siderale da queste due squadre che stanno facendo il vuoto ebbene dei favolosi quattro dei primi quattro Hamilton è stato quello che non è riuscito proprio a guidare cioè se si andavano a guardare gli on board praticamente Hamilton sembrava parente di Stroll con tutti i rispetto per Stroll per le correzioni di sterzo sullo sterzo che faceva per la guida nervosa non da un pilota che è un grandissimo interprete delle curve delle traiettorie ha una guida sia aggressiva ma non scomposta quindi un Hamilton negativo un Hamilton che non ha trovato il bandolo della Matassa sul classato da Bottas ecco perché la Ferrari può sorridere perché la Ferrari invece ha nel suo leader in Vettel un pilota perfettamente a proprio agio che anche quando perde lo fa a testa alta non mollando è vero la partenza non è stata magari ideale il Gran Premio quando monopolizzi la prima fila teoricamente lo devi vincere quindi è una sconfitta che può anche bruciare perché ha gettato una grande occasione la Ferrari ha sprecato una grande occasione però può sorridere perché ha allungato in classifica piloti perché aveva la monoposto più veloce e perché ha un Vettel che non sembra soffrire le crisi e non vedere i fantasmi di un Hamilton che si conferma un grandissimo fuoriclasse ma che pecca di discontinuità a volte altalenante e che non ha non riesce a reagire quando il fine settimana gli si riversa conto gli si mette storto non riesce a dare quell'impulso ecco perché per la Ferrari l'abbiamo tutti quanti un po' definita una sconfitta dolce Vettel è secondo si complimenta con botta si allunga in classifica rifila 6 punti di distacco in questa gara ad Hamilton e si porta a più 13 la Ferrari può consolarsi con entrambi i piloti sul podio con un podio più rosso che grigio e dà appuntamento alla Mercedes a Barcellona Barcellona è un circuito dove conta la trazione ma soprattutto l'aerodinamica e la Ferrari ha fatto la differenza nei test sembra sposarsi pienamente con le curve catalane e vedremo una grande sfida tra queste due grandi squadre la partita si giocherà molto anche negli sviluppi gli anni precedenti gli sviluppi sono stati un po' il tallone d'Achille della rossa però quest'anno il vento sembra cambiato e la Ferrari che è tornata in pollo dopo un anno e sette mesi veloce in ogni condizione ha il diritto di sognare e di non temere una Mercedes raggiunta in un solo inverno e che nel complesso in generale anche questo weekend è sembrato un passo indietro alla rossa è sembrata la rossa è sembrata anche in questo fine settimana un po' più veloce sebbene su questo circuito così poco spettacolare dove non si passa noioso un grandissimo Bottas ha preso il largo alla prima curva ed è andato a vincere la Formula 1 è anche questa la conosciamo e però la sconfitta può per certi versi può essere vista in modo positivo il bicchiere è mezzo pieno e quindi appuntamento a Barcellona dove la partita si giocherà negli sviluppi e dove ne vedremo sicuramente delle belle tra queste due grandi squadre grazie dell'attenzione un saluto a tutti ciao ciao